Weekend all'insegna della Canoa Polo al porto di Catania dove si è disputato il concentramento della Serie A femminile e della Serie A maschile Girone Sud. Un weekend di grande spettacolo, emozioni e adrenalina pura con la regia dello Jomar Club Catania. Nella Serie A femminile splende sempre di più la Sfrepoli sportiva canottieri Catania. Le campionesse d'Italia e d'Europa in carica non hanno rivali. La squadra rossa-azzurra vola sempre di più in testa alla classifica a punteggio pieno. La Sfrep prenderà parte ai play-off che si disputeranno il 7 ed 8 agosto proprio a Catania. E tra le squadre qualificate ci sono anche le giovanissime del gruppo sportivo Canoa Catania che hanno chiuso la regular season al quarto posto. Ai play-off prenderanno parte anche le Canoe Rovigo che si sono classificate seconde alle spalle della Sfrepoli sportiva canottieri Catania e il circolo canottieri aniene. Nella Serie A maschile polisportiva canottieri Catania e Ortea Palace sconfitta dal Canoa Club Napoli per 3 a 2 ma i gialloneri guidati dal tecnico giocatore Gianmarco Emanuele si sono riscattati superando lo Jomar Club Catania per 6 a 3, il circolo nautico Posillipo per 5 a 4, il club marina San Nicola Palermo per 7 a 4 e la polisportiva nautica Catana per 6 a 1. Sia la polisportiva Catania Ortea Palace che lo Jomar Club Catania prenderanno parte ai play-off che assegneranno lo scudetto maschile in programma sempre a Catania il 7 e 8 agosto. Grazie a tutti.